Come si può partire una ribellione politica? Un luogo di passione, un luogo di festa. Sono in Grecia perché ho un figlio di 18 anni e per tutti i ragazzi italiani che non si sa che futuro avranno, sono venuta per loro. Sono in Grecia perché qui è nata la democrazia e siamo qui tutti quanti per riportare la democrazia contro le banche e a favore del popolo. Sono venuto in Grecia nonostante il Livorno giocasse in casa, in un bel sacrificio. Sono in Grecia perché per vedere come la sinistra concretamente può vincere e per prendere una boccata di ossigeno. Sono ad Atene perché chi ha affamato la Grecia è lo stesso che ha affamato l'Italia e le nostre vite valgono più dei loro profitti. Sono ad Atene perché dalla Magna Grecia ci siamo ricordati che qui è nata la democrazia e siamo venuti a vedere come fanno, faremo anche noi la stessa cosa. Sono ad Atene perché la storia non sempre la si fa ma la si deve anche seguire. Sono in Grecia perché Xipras è l'unico che dice qualcosa in Europa contro le oligarchie e sono qui per capire. Sono ad Atene perché volevo portare la mia solidarietà, la mia vicinanza e i compagni in Grecia e perché volevo che loro mi insegnassero, ci insegnassero ad essere vincitori. Sono in Grecia per una speranza di cambiamento, per passare da un'Europa della finanza a un'Europa delle persone. Sono in Grecia per Solidarity for All, un programma che fa della solidarietà sul serio e una politica che torna ad essere una politica di cura della persona e dei suoi bisogni e non di parole. Sono in Grecia perché sono mediterraneo e voglio un mediterraneo di pace. Sono in Grecia perché lo sappiamo tutti. Sappiamo anche che è il momento, sappiamo anche quando e da lunedì dobbiamo tutti lavorare. Sono ad Atene perché da lunedì qua cambierà la Grecia, cambierà l'Europa e noi cambieremo l'Italia. Sono in Grecia perché voglio imparare a vincere, per me, per la mia generazione e per tutti gli italiani. Sono in Grecia perché voglio imparare a vincere, per la mia generazione e per tutti gli italiani. Grazie per la visione!